125 casi su 13.458 tamponi processati, tasso di positività allo 0,92%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 28 settembre. I casi emersi dal report precedente erano stati 57 su 6.284 test con positività allo 0,9%. Il totale dei contagi da coronavirus registrati in Puglia sale a 268.369, di cui 2.799 attualmente positivi, 258.785 guariti e 6.785 deceduti. 6 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 67 sono i casi attivi in meno rispetto al 27 settembre, 166 sono i nuovi guariti. Calano da 164 a 156 i pazienti ricoverati in area non critica, passano da 18 a 15 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 29 nuovi casi emersi nel Barese. 98.519 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. Numeri simili nella Bat, nell'Eccese e nel Foggiano, zone nelle quali sono stati registrati rispettivamente 26, 25 e 22 nuovi positivi. 28.115 è il totale della provincia di Barletta-Andreatrani, 31.065 è quello della zona salentina e 47.178 è quello della Capitanata. 18 sono i nuovi contagi nel Tarantino, 40.757 è il totale della zona ionica. 9 sono infine i nuovi casi nel Brindisino, un dato che porta il totale a 21.276. 3.647.725 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.